A Carpi è andata bene, sono stato un po' sfortunato alla partenza della seconda Manche, di nuovo non sono riuscito a partire davanti, recuperare è sempre molto difficile, però sono riuscito comunque ad arrivare alla fine a giocarmi di nuovo il podio sia di Manche che dell'assoluta, quindi è andata bene. Adesso oggi di nuovo cercherò con tutte le mie forze di raggiungere questo podio che mi manca onestamente dopo queste prime due gare, visto che il ritmo c'è, l'allenamento anche, una buona tenuta in gara, quindi ce la metterò tutta stasera.